Ciao a tutti ragazzi e benvenuti dal vostro Just Energy Oggi siamo qui tornati ragazzi sempre all'evento dell'UFO Siamo a 14esimo giorno ragazzi In cui ci stanno spawnando gli altri 3 Ieri siamo spawnati i primi 3 giorni Siamo spawnati gli altri 3 degli altri 3 giorni Tutti sono 6 L'UFO spawnerà più avanti a noi tipo vicino a qua ragazzi Quindi lo vedete voi Io se non mi ricordo come ragazzi questa di quale foto l'avevo fatta Se non l'ho fatta boh gg per noi la facciamo adesso Ah questo non l'avevo fatta infatti Ok ragazzi è bello abbiamo recuperato anche l'altro UFO Perfetto Però l'altro dovrebbe essere qua ragazzi Qua vicino Andiamoci dirigiamoci dall'altro Ragazzi ecco il nostro secondo UFO Già il primo Che ho fatto Questo ragazzi me lo ricordo benissimo Abbiamo fatto anche la foto qua Che questo è stato l'UFO in cui sono stato più tempo Così Infatti ragazzi noi l'avevamo preso Già Ora andiamo al nostro presso Ridirigiamoci all'ultima posizione Andiamo a prendere anche oggi il trofeo del marinaio Ok ragazzi ed ecco il terzo ed ultimo UFO Finalmente Che ragazzi ho aspettato un botto di tempo Per fare Sta cazzo di foto Anche se ce l'avevamo fatto No non è vero Anche questo mi sono perso Ok comunque mi chiamo Domega ragazzi Perfetto ragazzi Ora facciamolo sparire Così almeno L'evento L'abbiamo fatto anche noi Ma ragazzi Dirigiamoci Al forsele di oggi Ragazzi eccoci Al forsele di oggi Già ho sentito il rumore Che anche comunque è un punto buono Della mappa Ecco infatti ragazzi C'è perfetto Prendiamo anche questo oggi E siamo a 4 su 7 ragazzi Ok ragazzi Spero che il video di oggi Ragazzi vi sia piaciuto Se fosse così mi raccomando Un pollice in su Commentate e condividete Se non siete iscritti Mi raccomando Iscrivetevi Che siamo a 1100 Ragazzi saliamo Che ce la possiamo fare Commentate E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao ragazzi Ciao